Non si può così? Non cadere più? Ok Allora raga, oggi ho intenzione di fare un video diverso dai altri Praticamente dobbiamo trovare tutti tipo giocatore che ha l'ultimo pacchetto di questo Tutti i giocatori che troviamo qui Quindi adesso andiamo a vedere qual è l'ultimo giocatore Giorgio Chiellini Quindi iniziamo nella nostra ricerca di Giorgio Chiellini Prendiamo le carte della Juventus E qua non c'è nessuno E che cazzo? Ok, allora praticamente se vedete un po' così non riuscivo a posizionare bene il telefono Se no cade Questa è la figurina che stiamo cercando Adesso andiamo a vedere tra queste della Nations League Quelle dorate però Abbiamo questa di Holland e appunto Giorgio Chiellini Che lo mettiamo qua Ok Adesso andiamo a vedere Delle figurine Della Nations League Che sono abbastanza Quindi Controlliamo attentamente Perché se ci dovrebbe scappare proprio lui È un po' un problema Quello che state vedendo sono tutti i doppioni o carte Che non hanno Tipo quelle delle Titans Quelli non hanno Un Cioè non ho comprato ancora il cosa Però Fa niente Andiamo avanti Nella nostra ricerca di Giorgio Chiellini Eccolo qua Per la figurina firmata Di Giorgio Chiellini Quindi andiamo direttamente alle figurine Più orale Allora iniziamo Eccolo qua Giorgio Chiellini firmato Lo vado a mettere qua Ecco abbiamo Harry Maguire E Busquets No Non si sta spingendo Niente Eh Ho creato uno sfondo apposta Per Questi video Aspetta raga Parlavamo di Champions E allora Perché non mettere lo sfondo Della Champions Adesso andiamo a vedere Un attimo Nelle squadre L'avevo un Di Maria Che non trovo più Eccolo qua Angle Di Maria L'unico Di Maria che ho E niente Ho fatto veloce Per velocizzare il tempo Quindi per ora Abbiamo Giorgio Chiellini Della Nations League Poi Giorgio Chiellini Della Serie A Titans Poi Giorgio Chiellini Della Della Sempre Nations League E Giorgio Chiellini Firmata Della Champions Aiuto Adesso andiamo A tutti i doppioni Della Serie A Escludendo quelle Quelle Argentate Che non ci servono Escolendo sto bel pacchetto Di cose Argentate Che come vedete Per la USA Di Bala Che adesso Sì n'è andato Cioè non c'è niente E adesso Si va a vedere Su questo pacchetto Ok sono riuscito A trovare la Juventus Adesso andiamo a vedere Se c'è Giorgio Chiellini Della Juventus Quindi Iniziamo con Alvaro Morata Federico Chiesa Ramsey Di Bala Allegri Allegri E' un giocatore Della Svezia Che non c'entra niente Quindi Non c'è Giorgio Chiellini L'avevo trovato Ma a dire il vero L'ho regalato Sì Lo regalai un po' di tempo fa Questo video Finisce qui Ma Poi Nel prossimo video Vediamo di trovare Qualche altro giocatore E' un giocatore